Quinta stagione in maglia nero-verde per Antonio Figliuola che volerà tra un palo e l'altro della porta per tenere al sicuro la squadra. Sì, siamo arrivati alla quinta stagione, quindi sono passati tanti anni. Questa è una stagione un po' diversa dagli altri perché è un progetto diverso, un progetto più giovane. Sono stato abituato bene in questi anni sotto un certo punto di vista, però sono sicuro che la grinta e la voglia di mettersi in mostra di tutti noi arrivati quest'anno ci potrà far divertire. Sicuramente ci sarà un rapporto da tenere con il pubblico che non vi potrà venire a vedere nello stadio, ma anche questo modo di allenarvi e un po' girare per la città vi sta tenendo più uniti? Sì, il rapporto con i tifosi è molto importante. Io l'ho conosciuto e ho imparato a conoscere in questi anni il modo di amare la squadra da parte dei tifosi. Fa molto piacere quando vieni sostenuto in ogni momento della stagione. In questo i tifosi sono molto bravi perché ci seguono, ho avuto in questi anni tanti tifosi che hanno sempre seguito la squadra anche nei momenti di difficoltà ed è molto importante. Quest'anno questa situazione del campo va un po' a discapito nostro, però tramite queste iniziative che abbiamo fatto e che faremo sicuramente durante tutto l'anno sono sicuro che ci faranno sentire il loro calore sempre. Abbiamo parlato di unione non solo tra i tifosi ma anche nello spogliatoio, tu sei il più giovane, quello più giovane agli under, ai 23 anni. Sicuramente è anche un po' il tuo compito quello di essere da guida per loro. Sì, devo dire che quest'anno gli under sono veramente molto pronti, molto forti, sono arrivati già carichi e soprattutto molto svegli, quindi è una cosa molto importante, si sono subito ambientati e devo dire che si potranno veramente fare bene perché sono già grandi, quindi non c'è tutta questa distinzione, sicuramente li aiuterò perché vengo da poco, da quel periodo chiamato under, quindi so le difficoltà che si possono incontrare durante l'anno, delusioni, nervosismi, quindi quando potrò aiuterò sicuramente. A 23 anni hai subito uno stop anche abbastanza particolare per un problema di salute, ma sei anche un giovane molto attivo non solo nel mondo del calcio ma anche nello studio perché sei un giovane universitario. Quanto ti ha segnato quello che hai subito nel tuo percorso? Devo dire che per fortuna caratterialmente riesco a farmi passare tutto e a trasformare le cose negative in cose positive, quindi ho vissuto sicuramente brutti momenti in quel periodo, però una volta che mi sono abituato pensavo già al ritorno in campo che è avvenuto qualche mese dopo e anche i mesi dopo il ritorno in campo non sono stati facili perché era una situazione particolare. Hai subito un intervento al cuore? Sì, non è stato facile sia mentalmente che fisicamente riprendere, però se posso farmi un complimento sono stato molto calmo, non mi sono mai agitato tanto, quindi questo mi ha permesso dopo di ritornare ai livelli di prima. Quest'anno tra l'altro dopo tanto tempo c'è stato il cambio tra Iurino e Philip Kamb, il nuovo preparatore dei portieri, che rapporto c'è con loro? Con il mister Iurino ho passato degli anni bellissimi perché si è creato un rapporto anche fuori dal campo che tuttora manteniamo, siamo entrati molto in confidenza e questo è molto importante perché ci ha aiutato a lavorare meglio, a lavorare con più serenità. E devo dire che è stato molto importante per me perché mi ha aiutato a crescere sia tecnicamente di campo, di cose di campo, sia sicuramente come uomo, perché mi ha trasmesso la sua grinta e la sua voglia di dare il 100% sempre, quindi resterà sempre questo bellissimo rapporto. Con il nuovo preparatore sta nascendo un mondo, un buon rapporto, con tutto il gruppo portieri ci alleniamo bene, ci divertiamo, infatti penso che stiamo facendo tutti bene l'allenamento, stiamo lavorando bene, lui ha molta passione per questo sport, il mister ce la trasmette veramente come può perché mette tutta la sua passione in ogni allenamento, e ce lo sta trasmettendo, il suo amore per il ruolo del portiere ce lo sta trasmettendo e noi stiamo raccogliendo tutto quello che ci dice. Per salutare Antonio è il pubblico uno slogan, un motto che ti accompagnerà durante questa stagione? Sicuramente stay with us!